Corri, 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 destra, destra Come cazzo ha fatto? E con che cappello ve lo stiamo dicendo, eh, raga? Dai, per questo non metto No, no, no Sì e signori, benvenuti a un nuovo video, io sono Emilio E oggi finalmente siamo sullo speciale, secondo speciale, mille iscritti, come vi avevo promesso Lei è Lisa, per comodità la chiameremo Antonio, quindi saluta Antonio Ecco E niente raga, oggi siamo su, come avete visto dal titolo Siamo su Outlast, Outlast 2, che molti di voi conosceranno perché ho portato la serie sul canale E ho deciso di far giocare lei, che non gioca molto ai videogiochi Gli horror A braccetto, un po' come me con gli horror Quindi vediamo cosa ci salta fuori Vi lascio il video Puoi salutarvi, eh? Puoi dirgli ciao Diggi ciao Oh Allora ragazzi Nuova partita, ovviamente i filmati molti ve li farò saltare perché c'è nel senso Lei li deve vedere se non si capisce niente, però poi vi faccio saltare Se volete il video completo, il mio video, andate a vederlo Sei pronta? No Proprio no, zero Vai, nuova partita Lo senti bene? Poi, per favore Per favore O' dove sei? Sono scoperto Non come? Non come? Sto a vederlo Sto a vederlo Sto a vederlo Sto a vederlo Minchia raga Che brutti ricordi che ho Proprio brutti Ma brutti brutti dentro Puoi giocare Ma come ci sono finita qua dentro Comincia già con le domande Devi scoprirlo Vai verso Gesù Vai verso la luce Non mi dà luce C'è un tipo Vezza l'estintore Vezza l'estintore Posso prenderlo? Eh guarda Proprio prende tutto eh Non lo devi prenderlo Non lo so Cioè io quest'ora raga Mi stavo cagando adosso Lei ride Io bobo Cioè l'hai basso Mi piace di corre E lei è il corpo lento Ma te stai vai di traverso Come un granchio Non lo so Devi andare dritta Perché questo devi mettere dritto Cazzo è La lava La telecamera si è salvata L'importante è quello L'importante è quello Tu scherzi Ma solo adesso non è sopravvissuto Nuovo obiettivo Trova Leon Devi trovare Leon In qualche modo Ok Allora La stata c'era il cosa che vuoi Se vai così Sei già morta E già un passo L'abbiamo fatto Complimenti C'è il sentiero lì a destra Vai giù di lì Vai dritto di lì Guarda giù Guarda giù Ok Vai dritto di lì Mi sembrava un po' molto di rupo Ok Non di lato L'equilibrio proprio È un optional Ce la farai un giorno Il ventilatore Ah non c'è caldo C'è caldo Vuole ventilatore raga C'è saline estate Ci vuole ventilazzo Lo uso come stereo Vanti no ti premiamo Mentre avanti Alzo Sono ancora morto No Ti sei fatta malissimo Non posso guarire Primo Y Posso guarirmi Da sola Uno squarcio assurdo Ma va bene Noi continueremo Finché non moriremo del tutto Vai 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 a destra Vai a destra Bravissima Quanto sei brava Cazzo raga Le fa lei Adesso i gameplay Bravissima Sì ma qua è tutta una tecnica strana Tutta una tecnica strana Vivendo solo andare dritto Beh 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 Ora ci vedo Ok Salta Non salta Non salta È monco Ha perso la gamma Nel tragitto Facile Prendi Come faccio Vai avanti Vai avanti Sto testando Vai avanti Vai Ok Perfetto C'è qualcuno Mangi Perfetto E' solo un uomo Non è Lynn No mi sembra un po' uomo Si è scivolata giù Ok Un po' uomo Un po' uomo Oh grazie a Dio Non mi sembra un po' uomo Non mi sembra un po' uomo Non mi sembra un po' uomo Perché tu non vedi l'ora di incontrarli Minchia Che c'è Io sono un ostro Oh sangue C'è un ostro Ma io li devo sconfiggere Come faccio? Cosa devo fare? No devi scappare Tu non puoi affrontarli Mi hanno circondato Cosa devo fare? Ma? Cosa faccio? Cosa fai? Guarda guarda Non cincischi Vai vicino alla finestra Mira la finestra Cosa devo fare? Uscire Entrare e uscire Esci 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 Io mi aspetta già Prendi le batterie Prendi le batterie X Ma se io vado al buio Non vedo i mostri Certo Eh tanto meglio Non mi stavento Sì dove ti sconto Davanti È bloccata la porta Devi farla mezzo giro Ce la vedo bene raga Ce la vedo bene Devi passare dalla somma Eh visto Stai scaricando i batteri Oh c'è luce Hai un po' d'ansia Un po' Un pochino Un pochino Meglio i film o i giochi Beh sicuramente i giochi Eh? Devo entrarci? Sì Non per forza Se non vogliamo incontrare mostri Sì Guardati anche attorno Dai un occhio Scuriosa Non sei curiosa? Non sei curiosa? Minchia Vedi qua ci hanno squiato un capretto Vedi qua ci sono l'interior No sembra una teglia Vedi? Bambole e capretti squaiati No no non ce l'ho proprio niente Vai vai Vado Vado Si è tommato tantissimo Non corre Non corre il bastardo Corri Contro delle rocce Vai Non va Gira sinistra 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 Ma sinistra c'è lei? Vai vai dritto dritto Corri Non corre Corri Se te picchi sinistra 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 giù di la destra Destra giù di lì Giù di lì Cerchio Felice lei Destra Oh mio Dio Abbassati Bira 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 Abbassati Abbassati Vai Cazzo è Mi ha preso Vai 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 Corri 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 Salta X Cazzo è Tu sai Dei mai Esperienza With Videogiochi Oh Braga Si è fatta Bonissima Io non Con Y Y mi cura Io lo so Y Ponte di salvezza No non è vero Ma chi ti vuole a te Ok Bravissima Vedi che ci stai prendendo la mano Però non si va di qua Come no Qua Ma era abitato questo po' Era abitato questo po' Si c'è Certo Entro Se vuoi Se non stiamo qua Ci vuole di me faccia Chiacchieriamo Io devo correre a destra Ma poi dove ti porto il cuore Nel fuoco Nel fuoco Ma perché ti aveva preso Corri 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 Non corri Non corri Non corri Non corri Non corri Non corri Come cazzo ha fatto Corri Vai via Corri Non va Non va Non va Non va Non va Cos'è successo Ah Dio Cristo Aiutami Prendi No chi se ne frega Vai Non se ne frega di quello Mi se ne frega di tutto Spacca tutto Vaffanculo C'è un ponte La cosa più carina Che c'è in questo gioco Ci sei? Minchia La luce divina C'è c'è Raga Da qua Da qua Lo so io Te lo senti Non lo sento ormai Siamo entrati in sintonia Dai Dove cazzo Corri E qua Va bene ragazzuoli Ringraziamo Elisa Per il super gameplay Per averci fatto vedere Come si gioca Che bello Quanto è bello Pensa io Giocarci da solo Va bene ragazzi Concludo con questo video Sperate che vi sia piaciuto Questo era il secondo Ed ultimo Speciale di 1000 iscritti Prima è stata la live Di 5 ore Se non l'avete visto Vi ricordo Di consiglio piccato Di andarvelo a riprendere Allora Allora io la dico Tu fai i gesti Io faccio i gesti Ti fai i gesti Quindi come al solito Vi ricordo di iscrivervi al canale C'è un commento Un mi piace Era così Era molto da Iscrivete anche alla pagina Facebook E' stato tutti i miei link Sotto in descrizione E noi signori Ci vediamo la prossima Ciao Ciao